Siamo in esclusiva nel centro della Santissima Trinità, dove dovrebbe attivarsi il piano vaccinale per il comune di Torre del Greco, soprattutto per la vaccinazione dei cittadini over 80. Come possiamo vedere, l'interno è già completamente allestito per accogliere i pazienti e procedere alle inoculazioni. Tutto pronto per l'avvio della campagna vaccinale sul territorio di Torre del Greco. Dopo l'intervento del sindacato anziani della CGL e del comitato di quartiere, portavoci delle lamentele e delle preoccupazioni delle famiglie con anziani over 80 costretti a recarsi nei centri vaccinali di Gragnano e Pollena, si è corsi ai ripari per velocizzare l'avvio delle vaccinazioni nella città di Torre del Greco. Le immagini raccolte in esclusiva dalle telecamere di TV City dopo il sopralluogo di questa mattina mostrano come sono stati attrezzati i locali della Santissima Trinità adiacenti alla Chiesa della Santissima Annunziata, concessi dall'amministrazione comunale all'Asla per consentire l'avvio in tempi brevi della campagna vaccinale sul territorio. Ci sono le postazioni per le vaccinazioni e quelle individuate come sala d'attesa e il frigo che conterrà le dosi di vaccino. Sarà possibile accedere utilizzando l'ampia aria parcheggio antistante l'ingresso che è stata appositamente liberata. Secondo le notizie raccolte questa mattina, con buona probabilità si dovrebbe partire nella giornata di lunedì.